Allora, in questo video voglio parlarvi delle violette e voglio farvi vedere quindi come le semino. Ho già preparato delle etichette e dei vasetti e adesso provvederò a seminarne qualcuno. Ne ho già seminate alcune e sono anche uscite, spero non sono uscite molto bene quindi forse faceva troppo caldo. Siamo adesso al 15 ottobre e ci riproviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.